musica musica io ho accetto roba per tutto quanto ma oggi è un re a casa sua e mi ha fatto gli Stati Uniti di scampia se continuiamo bello Don Zabbadu ma che c'erano i miei soldi ora mi ha brindato si si festeggiamo vieni pure i passarelli vieni che ha fatto una cosa si siete pronti? si ma che becciso ma non è mezzo a me questo gaspio di età fai a buttare le mani e sparare là ma non è fai 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 ogni volta non devi comprare non è fai è niente è niente ora facciamoci un selfie selfie ebbì as ebbì as 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 Grazie a tutti.